Questa è una firma di supporto a una proposta di legge che c'è stata diventata in parola. Questa è una petizione per una proposta di legge che sta depositata dal nostro parlamentare per restituire una no tax aria, cioè una diminuzione dei tassi per chi non entra in terminato reddito, per una riduzione dei tassi per chi ha un reddito di una fascia medio bassa. Quindi se vuoi firmare inoltre, non so se lo sei, a molti altri leghi, non ho più tassi di quelle che potrebbero chiedere. Quindi una cosa giusta sarebbe un meccanismo tanzionatorio per tutte quelle università che... Spena un meccanismo tanzionatorio, va a dire. Ah, ok. Cioè, la sapenza non mi dà nulla, quindi io faccio solo mi dà pure finire. Quindi a maggior ragione dovresti firmare due volte. Senti parenti ai tuoi due. E guarda. Anche questo è spazio. Ti ringrazio. Ciao. Grazie, ciao. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.